e poi c'è quel mirino secondo me non è buono no come no out è buonissimo dipende non con tutti quando il nemico non ha semplicemente non lo vedono non vedo neanche i movimenti quindi erano un altro strato si spara anche una volta meno male che hanno messo che non guantà perché era veramente ridicolo era troppo era veramente troppo infatti ieri comunque ancora forte nel senso c'è le vi lo scudo a due di loro insieme sempre lo distante perché è l'ultimo contratto non lo posso fare io sai è il nemico hai gente andamole lì eccolo in quella casa in quella casa lì dentro lì dentro ok ok lo vedo lo vedo aspetta non c'è è andato fuori è andato fuori è andato dentro quello è il problema c'è gente qua è andato fuori uno fuori uno a terra no un altro team un altro team un altro team un altro team va sopra barck fatti questa stoppati là dentro dove stai con ecco un altro bravo alla fine lo so però la finisco io io ho brado prendo un attimo il trazzo raga possiamo accompagnare cose di classe è one shot è one shot va finito eh io stavo finendo quello ok fatemi fare un attimo solo sound raga che sono nel gulag c'è l'ultimo ecco l'ultimo ho vinto quella cara che ho vinto arrivo ok ok sto facendo le piastre no no entrammi in casa entrammi in casa vado al gulag ok io sono non lo so non mi conviene forse mi troppo io in testa ma vedo no io sono dove sono loro ma in un altro tetto ok io sto in un'altra casa proprio a voi soldi raga ma voi un sacco di soldi avevo 8000 ma quindi cosa andare a casa tua ok so dove sei morto io sono dentro la casa sopra si si è qua dentro la martin vai sento passi c'è gente parca eh no c'è gente non è entrato non è entrato sono morto sono un co ma perché camperano sto arrivando raga devo fare il gulag craccato morto uno il mio l'ho finito restami veloce però non posso non posso c'è un altro ah ok vabbè allora muoia qui fai la pistola però ah ok ti andrò tirando uno ti andrò sei morto vabbè che sfida non è entrato non è entrato mamma che glielo no cioè questa hanno visto uno che è sceso hai 7 e 8 puoi buttare in campo uno però non ho quello shop perché quelli dell'elicottero sono andati là perché non era qua che è isolato là non c'è nessuno sopra ma andate sarà mi sembra di essere in guerra veramente ragazzi qua c'è un altro ti ho pigato già l'altro il cazzo ora sa che gli l'elicottero e me ne faccio e no no perché non puoi salire sul ma la macchina non ti vedono non girarti mai dietro 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 corri corri ma quel lancio di equipaggiamento non è di nessuno si però lo prendiamo dopo mi resta a corre mi roba a prendere le smoke quello mi spara quelli là dal tetto ci hanno visto se vengono con l'elicottero siamo morti vabbè ho preso il coso e corro corri 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 e devo prenderlo a prendere e corri non ti vedono però se prendo l'elicottero non lo prendo non lo prendo barca perché non prenderebbero mai l'elicottero sono una brava persona io lo leggo sul volto tranquillo che dici? no barca c'è la RPG se vuoi oh barca c'è qualcuno che lo sa nord si è vero è vero vabbè andremo ad andarcene nel senso la cassa non è là come la sciolta oh no no ok sei morto tua madre è proprio una bella barca ce la fai io lo barca io lo io lo ok questo vuole girati e corri vai a la cassa vai a la cassa vuoi le piastre? no no ce l'ho marca non mi ricordo che marca c'è la mia piastra barca prendiamo un po' di piastre che non ne ho sì io ero a 5 io ho una compra le consigli avanzare eh dammi i soldi dammi i soldi non ne ho la compra io tieni qui ma prendete il m***o fatto come te io non lascio un in più a rally quindi ne ha due ah possiamo siamo chill guarda li vedo qua c'è gente qua lo shop lo shop è di là ecco lì è uscito adesso aspetta aspetta forse posso farlo è verso destra stanno sparando io avanzo sono dentro casa dentro casa dentro casa ok ok anche a sinistra però dall'altro lato HS è morto ok buono finisci finisci morto un altro no no finito non ci si due non ci si due entro di bomba vieni qua no 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 entri entri ma io ti fai eccolo eccolo una terra fuori fuori a terra fuori a terra ti morto ti morto pure a me pure a qua ti mani in tato raga quello di sinistra però no è quella di sinistra no 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 due sono non ci si due oh si 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 ci stanno ci stanno mi sparano mezzo alla strada sto facendo le piastre mezzo alla strada dove? pingate per favore di qua di qua in questa casa c'ho il cecchino c'ho il cecchino mi sparano da 110 ho visto ready qua c'è un Uzi se vuoi tranquillo Uzi e una K mi sa no io sto sto posto la casa tu ne ho attenti attenti ma dove mi sparano voglio capire dalla 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 foresta si è di dentro a casa la testa ok sto morto morto instant adesso mi doveva cacca io c'ho no c'ho un'arma aspetta prendo un attimo un cicchino migliore che sto ferino mamma mia io amo troppo il termico ti giuro ho uno che l'anda 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 verso di noi quasi si 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 all'ultimo di prima che ho killato ma c'è uno in alto guarda l'anda non andano qua aiutato in questa casa in questa casa dove sto io aiutato di nuovo rotto 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 oddio che mi hai guardato oh te l'ho detto te l'ho detto eh ho capito ma attento attento sono arrivato morto tira la niente tira la niente tiro la niente mia 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 ok avete il soldi non me non è morto subito parca tendo i soldi tendo i soldi intanto va a restare eh ma aspetta siamo in open c'era qualcuno Ma non abbattiti Manco questo ne aveva però Se facciamo il contratto questo qua Apriamo le casse No Ah dietro L'RPG Fuori casa Lì sotto Lì sotto Eccolo uno Atterrato un altro Eccolo Attrato in casa No mi hanno cecchinato Non ci credo No qua dentro Sono cecchinato in volo Partire Ti puoi restare No c'è uno dietro Copri 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 dietro la stracenata Dietro la stracenata Visto uno che si muoveva Attento attento fa il giro di casa Ma stavo entrando Stavo entrando No 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 dico Quanto tu è stato Mi ho fatto rischiare Ho detto c'è uno Sopra qua Vasco di qua Va a spararli Finestra mi sa Ti attenti Eccolo È andato via È andato via Mi affettando l'ho aiutato In quella casa L'ho aiutato tanto Ah solo uno scudo No scudo Rely non hai piastine Stai pushando senza piastra Oh mi hai aiutato Un altro player da lontano Che noia L'ho comprato L'ho comprato L'ho comprato L'ho comprato L'hichini C'è un cecchino Arrivo Arrivo Ah tu ce la vi già Mi viene a finire Mi sta finendo C'è uno su di me E c'è uno vicino qua C'è uno vicino qua C'è uno io dove sta Allora so Ma uno copre L'altro mi resta Fatemi Eccolo lo trovo Non morire Non morire Non morire Non morire Fatti le piastre Eh lo so Devo entrare in casa però E ora vengo anch'io Vabbè vengo anch'io Vai Entrammi in casa Vieni in casa Vieni in casa In casa questa partita raga No ma più che altro Non possiamo Ma questo posto Non posso dimmettere Sì sì lo so Ma non potevi stare in open Perché siamo troppo pochi Non mi ha acceso quello là Ma ci sono altro team Eh lo so Punto siamo troppo pochi Comunque il cecchino Per tutti Eccolo Eccolo 335 Mi hai finato Deve avanzare Deve avanzare Martina ti devi fare su qui Deve avanzare Riusciamo da qua Ci devono da qua Con il del tablano Qua si può cerchionare qualcuno Mi sa Vai vai Butta di col del tablano Aspetta se vai Eh vai Rissolti risolti L'hai stato Raga Di di uno Scendono Scendono Martina devi scendere Martina devi scendere Ti copri Ecco l'altro Arrivai Non ho più piastre Non ho più pastra Vieni giù Vieni giù Tieni le piastre Per lasciare due Quella sopra Quella sopra Quella sopra Mi hanno più piastre Eccolo Quanto Mi serve La destra Di quella Sì Ma Il bombardamento Il bombardamento Attenti Giù 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 Qua sotto C'è una C'è una Minamini Di tre Camini Di tre Camini Di Camini Di Camini Ci sto 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 E' qua Dietro Martina 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 Il camion Il camion Il camion Il camion E' il camion Ressolo Mi devi restare Ti resti tu Deve te restare voi Io ci sto Smocco Non posso Barca No siamo 2v1 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 Siamo Quanto squadre Sette rimasti Minco io Raga Let's go No Non abbiamo visto No ragazzi Siamo sei rimasti Sei rimasti No Erano le squadre Chilla 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 Forse Detro Qua la macchina Sì 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 C'è Chi nato Sotto Sotto C'è chi nato Sotto Sotto Uno l'ho finito Raga Mamma mia Che casino Holy Bella partita Very good Very good Guarda là Ho 17 L'avevo E io 12 Sì No ne abbiamo fatti Sottissime Vai I danni Mamma mia Puri danni Tantissimi Sotto 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 Sotto